Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Io sono Andrea e benvenuti a questo nuovo video In questo video ragazzi vi porterò alla mostra Dottemare Teatro Mediterraneo Per andare a vedere un evento speciale In questo evento ci sarà anche il mio maestro di musica Che comunque fa eventi, queste cose qua Niente, iniziamo 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 Quasi a Due metri da noi Quindi Continuiamo Quasi a Quasi a D большie Quasi a Quasi a Quasi a Quasi a Grazie a tutti. Ok ragazzi siamo quasi arrivati al teatro prima di continuare il video vi voglio dire che non vedrete io che entro nel teatro o io che mi siedo da qualche parte ma vi farò vedere un pezzettino piccolissimo dello spettacolo. Quindi una parte piccola di quello che suonano quello che cantano ok e niente ciao a dopo. Grazie a tutti.